Questi numeri di chi mancava e di chi non mancava contano poco. Sono contento perché sono finalmente riuscito a tornare in campo e a dare una mano dal campo ai miei compagni. Oggi era troppo importante per noi vincere, per la classifica prima di tutto, ma anche per la testa, per i tifosi, perché giustamente si aspettano molto da noi. Oggi l'abbiamo dimostrato soprattutto dal punto di vista caratteriale, perché comunque abbiamo fatto un buon primo tempo, eravamo un po' più bassi, però c'era la voglia di non prendere i gol e di portare a casa questa vittoria. L'importante era vincere come? Era uguale, bastava vincere chi faceva gol di mano, di piede, fuori gioco, non so se era fuori gioco però, comunque bisognava vincere e basta. In quella nostra testa c'era solo quello, non ce ne fregava d'altro, solo vincere, vincere, vincere come? Con i denti, come abbiamo fatto perché ci ha visto. E niente, adesso bisognerà rilassarsi un attimo due giorni, che è stata una settimana un po' lunga, e continuare così, con questa cattiveria, con questo sangue, perché così in Serie B si gioca così, si gioca così e con queste partite si vincono sempre.